buongiorno buongiorno a tutti e tutti coloro che ci stanno seguendo e ascoltando l'incontro di oggi ha per protagonista un maestro del cinema italiano marco bellocchio che ringraziamo di aver accettato l'invito e che è collegato con noi ormai è una modalità a cui credo ci siamo un po tutti abituati in questi mesi a essere vicini in maniera virtuale il film che avete visto e di cui parleremo è un film molto importante è un film che ha segnato la scorsa stagione cinematografica il traditore un film premiato tanto per restare nell'ambito in cui si svolge questo nostro incontro con ben sei david di donatello miglior film miglior regia migliore sceneggiatura sceneggiatura scritta da marco bellocchio con ludovica rampoldi con vaglia santella con francesco piccolo un davide di notello come miglior attore protagonista con pier francesco favino un altro david come miglior attore non protagonista con luigi locascio e un sesto david per il montaggio firmato da francesca calvelli fra l'altro nella mia veste di presidente del sindacato critici cinematografici ci tengo a ricordare che il traditore è stato premiato come miglior film italiano del 2020 marco una prima domanda un po ovvia ma inevitabile come è nata l'idea di realizzare un film su buscetta ma l'idea diciamo non è stata mia nel senso che il produttore uno dei produttori diciamo il produttore principale beppe caschetto mi ha proposto questo nome questo titolo questa storia io conoscendola da solo da cittadino da 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 uno che legge giornali che guarda la televisione non ne sapevo molto sì avevo sapevo mi ricordavo di buscetta colui che era giudicato il grande pentito il grande collaboratore e allora ho chiesto a caschetto semplicemente di studiare le carte di conoscere di e quello che ha fatto quello che si dice un'inchiesta insomma da questa inchiesta è venuta fuori una mia risposta a beppe dicendo ci sono le condizioni per tentare questo viaggio cinematografico nel quale poi si sono inseriti gli sceneggiatori e poi siamo arrivati al film ecco ma non è che io l'ho sognato la notte oppure mi è stata una cosa che mi ha che è partita da me no è partita da beppe caschetto che me lo ha proposto il personaggio buscetta che emerge dal film non è né un eroe né un mostro emerge un ritratto che non vuole essere epico non vuole essere empatico però il rischio di farne un eroe in qualche modo credo che fosse un rischio molto molto vero e forse è un aspetto che voi ancora prima di realizzare il film prima di girare vi siete vi siete posti anche perché lui in qualche modo difende i valori di una mafia vecchio stile e quindi potrebbe quasi sembrare appunto un personaggio positivo forse quel finale dove si vede buscetta sparare e uccidere è stato proprio messo appositamente per evitare questo questo rischio ti chiedo appunto se se un po così ecco se questo problema ve lo siete posti ma è chiaro che questo era un rischio quando si scrive quando si pensa quando si immagina ci si pensa poco ma sicuramente c'era da parte mia e anche dagli altri sceneggiatori proprio la necessità l'obbligo potremmo dire l'obbligo civile di non farne un personaggio da imitare di identificazione proprio perché buscetta non è un eroe proprio perché buscetta non è un un eroe nel senso di un martire di qualcuno che si sacrifica che è disposto sacrificare anche la vita per la difesa dei più deboli delle istituzioni della legge via dicendo e quindi è un personaggio che è stato costretto a collaborare poi strada facendo io lo credo si è quasi per amore verso falcone io credo che veramente la stima e l'affetto verso falcone fosse autentico reale infatti con la morte di falcone un po la sua stella è un po decaduta un po calata insomma perché lui aveva in falcone un un uomo delle istituzioni che però l'unico o uno dei pochi che lui stimava stimava veramente stimava e lui lo e amava veramente perché lo ammirava perché era un uomo che pur all'opposto di lui un proprio fine per fare trionfare la giustizia contro l'orrore della mafia in questo senso nella seconda parte della sua vita lui ha rinnegato completamente la mafia non è che avesse come altri pentiti poi la tentazione di ritornare un po come contorno contorno ritornerà addirittura ad uccidere insomma no lui ha deciso di chiudere definitivamente con la mafia però da uomo da uomo d'onore da uomo d'onore nel senso da uomo lui è bucetta la politica non dico un disprezzo ma un disinteresse non è che pensasse ad una società eh nuova no però aveva capito che la storia sua il rapporto alla mafia era finita il film Il traditore utilizza anche delle immagini che sono entrate a far parte del patrimonio collettivo un po' di tutti penso alla buscetta in manette che scende dall'aereo con questa coperta che gli copre le manette penso ai funerali penso alla strage di Capaci ecco come diciamo qual è il rapporto fra la ricostruzione filmica e la documentazione che tu hai utilizzato anche per il film ma diciamo che il repertorio è importante ma è breve è piccolo insomma laddove c'erano delle immagini che di per sé anche se già utilizzate erano profondamente significative e soprattutto potevano fondersi con la nostra finzione allora le abbiamo utilizzate appunto subito alla discesa dall'aereo abbiamo fatto l'attentato di Capaci però il dopo attentato ci ha visto attraverso la televisione sono immagini in cui abbiamo utilizzato il materiale televisivo e i funerali di Falcone non abbiamo anche e inoltre questo materiale viene sempre mediato dall'apparecchio televisivo per cui diventa televisione però acquista molta importanza è sempre un dilemma in cui contano anche spesso per noi italiani dell'era economica insomma nel senso che adesso stiamo preparando questa serie esterno notte in cui è chiaro una serie di imparazioni possono anche servire ed essere e sostituire magari qualcosa che produttivamente è troppo grande è troppo impegnativo e non ci possiamo come dire da un punto di vista dei budget italiani permetterci però devo anche aggiungere che sul traditore per esempio c'è stata una combinazione di verità e di finzione nel nel maxiprocesso che occupa quasi mezz'ora di film cioè è una sequenza enormemente importante in cui abbiamo finto però dentro l'aula vera dove era venuto il processo che abbiamo in qualche modo adattato a cui abbiamo tolto una serie di elementi tecnologici troppo moderni però lì nel luogo stesso in cui è avvenuto il grande maxiprocesso quando si affronta come in questo caso una storia nota però credo ci sia l'esigenza di dover dire di qualcosa di nuovo di qualcosa di inedito ecco il traditore secondo te ha scoperto qualcosa che era poco comunque poco noto ma poco no a livello storico non lo so certamente c'è stata il modo di rappresentare anche una certa teatralità mafiosa mi riferisco sempre al maxiprocesso e un un una cioè Bucetta è stato un che ha goduto della simpatia degli italiani potremmo dire nella prima parte ma non dimentichiamo che per molti per molti che ovviamente che non lo hanno manifestato pensiamo alla Sicilia Bucetta è stato veramente un infame qualcuno che non avrebbe dovuto in nessun caso collaborare con la giustizia anche con chi non era d'accordo con la crudeltà assassina di Reina e del suo clan mi dicevano che a Sicilia in Sicilia proprio era visto con disprezzo infatti lo abbiamo già detto varie volte in quegli anni e per qualche anno dopo Bucetta è un insulto io ti chiamo Bucetta perché hai tradito i principi dell'omertà e dell'onore ecco in questo senso Bucetta poi diventerà successivamente noi non potevamo condensare in un film che è lungo però non è infinito il fatto che Bucetta quando muore Falcone c'è tutta una offensiva contro di lui per screditarlo per diminuirne l'importanza che per fortuna non va a segno però Tazzarero lui ne sarà molto amareggiato e ritornerà poi in America e quello sarà gli ultimi anni della sua vita sarà un po' il tramonto della sua vita proprio perché lui non ha più non sente più di rappresentare il partito di essere diciamo perché lui era anche molto un protagonista nato di essere il protagonista di questa lotta contro la mafia ecco il suo grande successo è solo gli anni del del maxi poi dopo ritorna nell'ombra nella filmografia di Marco Bellocchio nella filmografia più recente ci sono una serie di film che partono da realtà storiche da eventi accaduti nella società italiana penso a Buongiorno Notte del 2003 che è ispirato al sequestro di Aldo Moro penso a vincere del 2009 che racconta da un'ottica particolare la storia di Mussolini qualcuno anzi dice che il traditore rappresenta un po' la fine di questa trilogia dedicata a eventi politici e storici raccontati da Bellocchio ma io aggiungerei anche la bella addormentata un film del 2012 che prende spunto dal caso di Eluana Englaro ecco tutti questi film precedenti al traditore Bellocchio racconta questa storia ma la racconta poi in tono che è un po' surreale immaginifico fantasioso il traditore invece da un certo punto di vista è un film molto più cronachistico più legato alla realtà se mi permetti direi un film per certi versi poco alla Bellocchio ecco ti chiedo come mai ecco questa sterzata rispetto appunto a una precedente produzione ma non lo so questo nel senso che è vero che film come Vincere o come Buongiorno Notte sono più ma c'è una un'evidenza di immagini più evidentemente personali ecco questo però io ho percepito fin dall'inizio che questa questo film era per me affascinante e coinvolgente proprio perché mi dava pochi appigli la mia vita la mia cultura il mio passato certamente gli uomini della mafia hanno la loro psicologia però non potevo stabilire delle identificazioni mie personaggi io non mi ritrovo nel personaggio non posso dire Buscetta sono io ecco in questo però la novità una novità importantissima è stata doppia di questo film e cioè che il mio rapporto direi molto fertile molto importante con Pierfrancesco Favino che è come se io mi confrontassi con lui ed è lui che è così intimamente profondamente entrato dentro da attore da grande interprete nel personaggio di Buscetta e anche Contorno Luigi Locascio e anche altri siciliani qui c'è una novità una novità per me naturalmente la sicilianità la parlata siciliana sono tutte cose che mi hanno profondamente intrigato che mi hanno profondamente coinvolto ecco e quindi l'approccio è stato diverso rispetto a film in cui se penso a Buongiorno Notte è significativo il fatto che io lo dedichi a mio padre perché in Aldomoro mi ricordavo di mio padre cioè avevo in Buongiorno Notte tutta una serie di connessioni biografiche molto più anche anche la mia militanza nell'estrema sinistra pur non avendo mai minimamente toccato il terrorismo ecco lì c'erano tutta una serie di suggestioni e occasioni biografiche più di quanto non sia stato per il traditore ma in questo senso però io ne ero cosciente e ho detto proviamo a a vivere questo film in modo diverso ora poi il fatto che abbia qualcuno ha detto ma guarda che è il film che ti ha dato più successo nella tua lunga carriera però non significa che possa essere un'indicazione per dire bello mio tu devi andare in quella direzione se vuoi no adesso vediamo non era questo il mio calcolo ecco assolutamente senti a questo punto facciamo intervenire le domande dei ragazzi e quindi io chiedo di mandare il primo slot di video che appunto rivolgeranno delle domande anche direttamente a te prego è ufficialmente indicato come film biografico per rappresentare la figura di Tommaso Buscetta su cosa vi siete focalizzati maggiormente sull'ethos ovvero sul suo carattere sulle sue azioni o si è cercato di trovare un connubio tra le due cose salve mi chiamo Maria Grazia Di Mauro vengo dal liceo scientifico Guglia e Penisi la mia domanda per lei è perché ha deciso di parlare della mafia dal punto di vista mafioso e perché ha scelto proprio Buscetta vista l'importanza delle tematiche trattate come è stato accolto il film da quei familiari ancora in vita di alcuni personaggi ecco Marco ti riassumo rapidamente le domande sintetizzo le domande dei ragazzi durante le domande anzi ti chiedo di non intervenire qui quello che ti chiedono è che tipo di film avete scelto cioè basandosi molto più sul carattere o sulle azioni di Buscetta e poi perché scegliere di parlare di mafia dal punto di vista da un'ottica del mafioso e infine come è stato accolto il film dai familiari di personaggi alcuni ancora assolutamente veri reali e in vita dunque è chiaro che la scelta nella tradizione dei film sulla mafia molto spesso il punto di vista è sempre del giudice del buono di colui che cerca di combatterla di vincerla e molto spesso muore in questa battaglia lì chiaramente era per me affascinante il personaggio di Buscetta il quale si ha vissuto tanti anni nella mafia è stato uno dei soldati della mafia anche se lui appunto lo dice non ha mai voluto salire di grado a lui bastava essere dentro la mafia e poi per ragioni di persecuzione perché aveva capito che stava per essere ucciso dai corleonesi è costretto quasi obbligato anche perché viene arrestato ed estradato da Falcone a a scegliere la sua scelta non dimentichiamo è stata una scelta estremamente estremamente complicata estremamente incerta fino alla fine tant'è vero che in alcuni libri si dice che lui avesse pensato più volte di suicidarsi pur di non parlare pur di non collaborare e quindi questo punto di vista in cui è Bucetta il protagonista lo è anche Falcone lo sono anche altri però è lui artisticamente mi affascinava mi interessava ecco per quel che riguarda poi i familiari noi non abbiamo abbiamo parlato con gli avvocati l'avvocato di di Bucetta abbiamo parlato con eh eh dei degli altri dirigenti eh eh della polizia col prefetto De Gennaro che lo accompagnò e che lo eh protesse per molti anni eh la moglie che è ancora in vita non non siamo riusciti a eh eh trovarla anche perché eh avevamo capito che lei volesse scomparire del tutto anche se poi dopo il film è uscito proprio un film su Bucetta in cui eh i protagonisti sono proprio la moglie e uno dei figli con altri eh diciamo ex mafiosi o parenti di mafiosi no io non non ho mai eh non ho mai parlato eh né siamo stati o minacciati oppure eh abbiamo dovuto proteggerci no assolutamente forse in un in un'occasione il il figlio di un pentito eh eh arrivò eh durante il maxiprocesso durante le riprese del maxiprocesso però eh poi non accade nulla eh eh di minaccioso o di rischioso non accade nulla attivenendo un po' invece alla messa in scena del film eh direi che il film ha un tono abbastanza legato al melodramma un film in qualche modo melodrammatico anche se appunto come abbiamo detto un attimo fa anche molto cronachistico beh sì il melodramma eh spunta anche in un paio di occasioni utilizzando appunto Verdi sia il Mac che il Nabucco proprio perché eh ormai io in qualche modo ho eh non è che mi sono riconciliato col melodramma l'ho detto alcune volte in alcuni film più giovanili io utilizzavo il melodramma in modo quasi ridente quasi eh sarcastico ecco il melodramma in realtà fa parte della mia formazione culturale ecco la musica che è una voce così importante eh nel nel film eh la mia sensibilità musicale nasce e si forma attraverso il melodramma eh e quindi è possibile senz'altro eh che eh le forme melodrammatiche a livello musicale a livello proprio di drammaturgia eh proprio perché non non è più un qualcosa di cui ridere ma qualcosa di molto serio può darsi che emerga nella struttura del film cioè in particolare nelle scene del processo che in fondo è una grande rappresentazione e lì appunto il Nabucco va a pensiero al momento della l'accompagna la sentenza lì nel nel processo appunto c'è eh eh una teatralità eh tragico grottesca che non è solo grottesca ma anche tragica insomma e e mi sono trovato è stato molto interessante perché eh nei vari processi ma quello il maxi processo in particolare era ha proprio ha proprio ha proprio la 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 forma eh eh utilizzando anche eh certe esagerazioni certe eh che erano proprie anche del teatro della mafia che e di cui la mafia si serviva anche per eh distrarre il eh e per impedire e per rallentare per fare in modo che il processo non avesse nessuna conclusione ecco quindi lì il teatro è utilizzato per eh boicottare l'andamento eh del processo stesso ecco da parte dei mafiosi insomma è un calcolo teatrale ecco da parte dei mafiosi devo dire mi pare che c'è proprio una battuta che fa riferimento proprio a questa follia eh nel processo c'è proprio una contaminazione fra teatralità e psichiatria e follia e pazzia vabbè sì sono battute che sai nel processo abbiamo preso eh moltissima roba dalle croniche del processo stesso insomma ma naturalmente è chiaro facendo un film facendo finzione dovevamo dare un un tempo un ritmo eh cinematografici eh però e quindi alcune cose sono state forzate inventate eh ripetute ma eh quasi tutto quello che noi vediamo eh è accaduto durante il maxiprocesso è accaduto anche quando il cioè i carabinieri lo guardano lo fissano Liggio Liggio e lì è vero eh dice ma perché mi guardate signor presidente questi mi guardano mi fissano mi disturbano ecco questa è una cosa assurda però è vera senti il la scena le sequenze della festa iniziale del traditore rimandano un po' a certe atmosfere del padrino eh di Coppola ti chiedo se eh insomma hai pensato a quel modello se in preparazione del film hai visto dei film che raccontano un po' il mondo e l'universo mafioso ma dunque il io ho visto alcuni film che in qualche modo richiamavano al personaggio di Buscetta e eh che non voglio giudicare che insomma mi sono servite anche come informazioni il padrino secondo me è un un film un capolavoro insomma cioè un film eh ed è possibile probabilmente eh certo anche se io non l'ho esaminato nei dettagli che come tutte le cose che ti impressionano in qualche modo ti rimangono e quindi eh sicuramente non è che abbia voluto fare un'imitazione perché quello è sempre fallimentare come proposito ma è possibile che però certe atmosfere certe immagini certi ritmi eh eh possono richiamare il padrino ecco lì il ballo finale è un qualcosa che noi abbiamo appreso dalla tradizione siciliana eh quando eh lo cascio balla e poi e poi la fotografia finale che a noi serviva proprio per eh fissare eh i volti eh dei protagonisti essendo l'inizio del film ma è possibile che tutte le cose belle eh e molto riuscite eh chiaro ci influenzano eh succeda anche a me hanno detto ah ma tu quello ha preso da te insomma non importa quello è normale che un artista poi eh il problema è di non perché l'imitazione è fallimentare se tu imiti ma se tu in qualche modo eh ritrovi certe cose che hai visto prima secondo me è lecito è legittimo assolutamente certo non volevo dire che voglio dire c'era un'imitazione assolutamente nella cultura eh mafiosa il concetto di famiglia è molto forte eh famiglia di sangue ma famiglia più allargata famiglia di clan eh e questo ritorna ovviamente anche eh nel tuo film ma in particolare sulla paternità di Buscetta eh lo sappiamo perché abbiamo visto tanti film perché appartiene alla realtà ci sono dei criminali ferocissimi che però hanno un rapporto molto amorevole molto affettuoso con i propri figli ecco Buscetta che padre è perché è un padre che tende a difendere i figli ma poi in qualche modo i figli di 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 primo letto li abbandona su questo concetto di famiglia volevo sentirti ma lui eh lui è un tradizionalista assolutamente uno che poi non è che fosse un fervente cattolico però questa croce d'oro che lui porta al petto lui è per le tradizioni eh e quindi la famiglia in questa tradizione naturalmente eh lui nella prima parte della sua vita eh dicono le cronache che fosse anche un Don Giovanni uno che aveva molti molti rapporti e per questo lui era strato e avevano incominciato a vederlo male proprio perché nella tradizione mafiosa eh tu puoi anche tradire però devi assolutamente rispettare eh se sei un capo se sei un boss la tua famiglia e mentre invece lui eh ad un certo punto ci è sposato con un'altra ha avuto altri due figli insomma eh però nel suo spirito ehm la famiglia è qualcosa di profondamente radicato ed è lui se ne accorge tardi che eh Riina gli ha ammazzato due figli e però lui è particolarmente questo lo dicono i libri di storia e c'è anche un po' nel film lui è particolarmente ehm attento e anche geloso e anche molto eh possessivo per esempio nei riguardi della sua ultima famiglia non dimentichiamo che Cristina era una ragazza brasiliana emancipata mi pare che aveva meno di vent'anni di lui insomma lui era più grande molto più grande ecco e quindi il principio della famiglia ehm al di là perché al di là eh di possibili tradimenti eh anzi di sicuri fallimenti eh tradimenti eh era molto profondo in lui che mi come in tutte le diciamo eh mi colpisce io ho visto molto tardivamente eh con mia figlia adesso eh Breaking Bad eh anche questo uomo eh questo improbabile eh produttore di di drodi di praticamente ha verso la famiglia un un attaccamento assoluto non vuole perderla non vuole eh è attaccatissimo ai due figli ecco eh e la famiglia comunque eh vivendola e rappresentandola in modo assai diverso eh è sicuramente un'esperienza umana fondamentale della mia vita ecco senza a proposito di contraddizioni il rapporto fra mafia e religione cioè la mafia il male assoluto però utilizza eh delle eh componenti religiose ci sono abbiamo visto anche nella realtà rifugi di mafiosi che erano pieni di santini di 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 immagini di padre Pio ecco è veramente una una contraddizione eh inspiegabile beh per allora non dimentichiamo che eh appunto le autorità del paese erano eh il capo mafia il prete e il maresciallo dei carabinieri eh però eh non dimentichiamo anche che il rapporto tra chiesa e mafia che adesso si è radicalmente modificato eh c'è la grande invettiva del papa contro i mafiosi petitevi però fino a fino a pochi anni prima c'era non una collusione diretta ma una tolleranza nel senso che eh non dimentichiamo che una serie di sacerdoti eh sono stati implicati proprio in in fatti mafiosi e che ci tenevano moltissimo i mafiosi latitanti a sposarsi in chiesa eh magari ottenendo eh facendosi sposare da da un sacerdote compiacente no quindi c'erano una serie di sacerdoti che eh erano compiacenti e non dimentichiamo che fino a prima del cardinale il pappalardo eh proprio lo stesso cardinale di palermo questo famoso non volle non voleva pronunciare la parola mafia come se la mafia non esistesse è chiaro che poi eh le cose sono cambiate sono cambiate profondamente eh ma noi per il film facciamo riferimento agli anni 50 60 70 80 insomma fino agli anni 90 quando però Bucetta dalle cronache è uno che anche negli Stati Uniti lui andava in chiesa la domenica e non metteva minimamente in discussione l'autorità eh spirituale della chiesa cattolica a questo punto manderei un secondo slot di domande che può essere appunto mandato il traditore come mai tra tutti i titoli che potrebbero rappresentare il suddetto film è stato scelto proprio questo si tratta infatti di un appellativo negativo rivolto a Tommaso Bucetta da parte della sua famiglia mafiosa che potrebbe quasi contrapporsi all'umanità del protagonista evidenziata nel film perché Bucetta è traditore traditore verso cosa nostra o verso la nuova mafia che si è creata allora in questo caso le domande vertono attorno al vocabolo il traditore il traditore il titolo del film che si può leggere in vari modi è Bucetta un traditore o a tradire rispetto a una tradizione ai propri valori a una propria per quanto discutibile etica sia la mafia ecco che cosa che cosa volevate indicare con questo titolo il traditore ma il traditore sono quei titoli dico la verità all'inizio non ma un titolo un po' poi si è imposto e lo abbiamo accettato come al solito per i titoli c'è sempre ci sono sempre delle storielle precedenti in cui si tenta di modificarli o non si trovano comunque poi siccome il film ha avuto una certa fortuna poi si è imposto però è chiaro che lo dice lo stesso Bucetta ed è una tesi che lui sostiene in questo senso lui si considera fino alla fine come un uomo d'onore che ha si è separato dalla mafia cruenta però lui sostiene i traditori sono gli altri cioè sono i macellai coloro che uccidono in modo assolutamente senza nessuna distinzione cioè i traditori sono reina i corleonesi che vogliono ammazzare i mafiosi fino alla trentesima semenza viene detto i bambini le donne i giudici perché sostiene sempre Bucetta fino ad una certo anno quando lui era uomo d'onore integrato dentro la mafia certi delitti non si potevano compiere con i corleonesi e con la grande esplosione e ricchezza sterminata del traffico d'eroina non c'è stato più nessun freno si poteva ammazzare chiunque non c'era nessun limite morale ecco in questo senso lui dice i traditori siete voi che avete rinnegato i sacri principi della mafia e a questo punto nel film Falcone dice ma che cavolo sta dicendo Bucetta guardi che anche ai tempi suoi ai tempi dell'onorata società si commettevano dei delitti orrendi insomma in questo senso lui certamente però lui per la sua formazione tra l'altro lui era un soggetto diversamente da certi ergastolani da certi che si sono nel carcere in qualche modo coltivano letto si sono fatti una cultura lui era piuttosto i libri non gli piacevano non gli interessavano segueva i giornali sportivi oppure l'aspetto culturale a lui interessava poco tra l'altro appunto il tifoso della Juventus appunto la famosa battuta di Agnelli mi pare guardi Buscetta lei è un tifo che lei non tradirà mai nel senso della Juventus però ecco lui era un uomo che non era molto legato all'azione in questo era considerato un grande leader anche senza avere i gradi del generale ecco e quindi lui certamente rispetto alla mentalità mafiosa che era così presente nella Sicilia e forse anche non solo lui aveva tradito in qualche modo però il traditori secondo Bucetta erano proprio gli altri che lo accusavano di aver tradito in fase di scrittura qual è stata la difficoltà maggiore dovendo concentrare vent'anni di storia in un film che ricordavi tu è lungo più lungo del solito 148 minuti mi pare ma insomma ha un tempo molto limitato e lì è quella è il lavoro di sceneggiatura estremamente difficile perché tu ti salvi solo facendo dei grandi salti devi sacrificare tutta una serie di altre cose se no dovresti fare una serie e quindi la difficoltà è stata proprio questa di dare un senso sintetico a questa storia saltando anni interi di storia in qualche modo lì siamo partiti dalla sua chiamiamola fuga in Brasile proprio perché si rende conto che le cose non stanno andando bene poi lui che viene è stradato naturalmente lì passano molti anni naturalmente lì è tutto concentrato e per poi arrivare al maxi e nel frattempo scanditi questi fatti da tanti omicidi che vengono descritti in una forma molto sbrigativa ecco non senza come una punteggiatura criminale che però dava il senso un tempo che dava il senso di una avventura di tutta una vita per 20 anni questo modo sbrigativo come lo hai definito tu però ci fa capire e ci sorprende un po' perché forse non ce ne eravamo accorti di come la guerra di mafia sia stata una vera guerra c'è stata un'autentica mattanza è impressionante rivedere uno dopo l'altro tutti con le dovute didascalie nomi luoghi tempi in cui è avvenuto questo massacro è vero sì in quegli anni noi abbiamo utilizzato anche la grafica dell'ora in cui praticamente ogni giorno l'ora giornale scomparso estremamente però di battaglia contro la mafia in quegli anni dava ogni giorno almeno un morto cioè proprio una guerra alla fine si andava oltre i 100 200 300 1000 insomma era diventata come un un appuntamento con la morte che l'ora dava proprio con dei numeri progressivi perché era proprio una guerra una guerra in cui poi tanti ci sono stati tanti delitti di cui nessuno si ricorda ma parliamo di centinaia e centinaia e migliaia di morti ecco l'idea ti sei fatto delle rivelazioni di Buscetta in particolare rispetto alle accuse nei confronti di Andreotti ma questo lui è in un momento di debolezza nel senso che mancando il suo potremmo dire senza offesa il suo padrino cioè Falcone colui il suo riferimento ideale lui si trova in un in un in un momento di debolezza chiaramente lui ritorna anche perché lui è un protagonista è uno che vuole essere sempre al centro della scena e quindi andando negli Stati Uniti ormai era stato dimenticato lui ritorna e però anche con Andreotti cerca di essere non dice delle cose esagerate è molto prudente riferisce solo quello che gli hanno detto che lui ha saputo in questo però è più debole perché non ha le prove schiaccianti che aveva al tempi delle deposizioni al maxiprocesso e quindi in qualche modo non è che la sua identità la sua collaborazione viene messa in discussione rispetto alla mafia però la sua immagine si impallidisce si indebolisce e proprio dà il senso poi altrutto si ammala e poi ritornerà e morirà negli Stati Uniti però insomma è un po' io ho voluto in questa udienza con Andreotti rappresentare il suo tramonto ecco il suo tramonto nel film c'è una scena che racconta una stretta di mano fra Falcone e Buscetta si tratta di un'invenzione romanzesca o si tratta come dire di una realtà storica ma adesso esattamente non ti so dire però nell'unico libro scritto di Falcone raccolto dalla la Padovanì mi pare che fosse chiaro che lui abbia detto no lei Buscetta e lo dice mi pare anche nel film non siamo amici c'è un tavolo tra di noi siamo uno di fronte all'altro alla fine della collaborazione in qualche modo però si è in qualche modo questa questo darsi sempre del lei stare sempre uno davanti all'altro ma senza nessuna complicità infatti Buscetta era rimasto anche molto colpito positivamente perché Falcone non non aveva nessun modo potrebbe accadere non so di di farselo amico di 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 nessuna anche legittima ruffianeria per ottenere un risultato e questo lui Buscetta lo ammirava molto è possibile adesso non mi ricordo è possibile che nel momento in cui loro si congedano l'uno dall'altro e non si vedranno mai più può esserci stata una stretta di mano ecco non so però se sia storico oppure se sia un'invenzione comunque ci stava ecco vogliamo allora lanciare adesso il terzo ed ultimo slot di domande prego registrando questo film ha avuto il dubbio o l'intimore di poter ricevere delle ritorsioni da parte della mafia? Considerando che il film è ampiamente uscito dai confini italiani ed ha partecipato a numerosi festival internazionali rappresentare la mafia seppur mettendo in scena il lato più umano del protagonista Tommaso Buscetta vostro malgrado di lei regista e del cast non ha comunque contribuito a rafforzare lo stereotipo dell'italiano mafioso? Ecco sulla prima domanda mi pare che tu abbia già risposto precedentemente non ci sono state ritorsioni e non ci sono state paure particolari nei confronti appunto degli autori del film invece ecco qual è stata un po' l'accoglienza che il film ha avuto all'estero? Noi la storia italiana la conosciamo molto bene all'estero ovviamente le vicende di Buscetta della mafia siciliana sono meno conosciute che accoglienza ha avuto il film fuori dai confini nazionali? ma è chiaro che io non ho una non ho seguito tappa per tappa nazione per nazione mi è stato riferito dai distributori per esempio ha avuto un ottimo esito in Francia e anche in Germania in Francia soprattutto è una coproduzione con la Francia e anche negli Stati Uniti negli Stati Uniti siamo andati perché il film come voi sapete era stato candidato dall'Italia per l'Oscar e quindi noi abbiamo fatto un giro laddove il film è stato presentato abbiamo trovato siamo andati con Pia e Francesco abbiamo trovato una buona un'ottima accoglienza un interesse un coinvolgimento poi i numeri non dimentichiamo poi dopo il film nel suo percorso verso l'Oscar si fermò subito e poi non so poi addirittura poi venne e sì e poi figuriamoci poi venne la pandemia e che però diciamo per quello che ne so è stato molto ben accolto ma come un film diciamo che non dimentichiamo che questa storia siamo nel 2021 parla di fatti di 40 anni fa ecco in cui tutto il discorso della criminalità della mafia del adesso è passato remoto quello ecco adesso è tutto cambiato non molto però nonostante che fosse storia del passato credo che sia stato accolto molto molto bene non anche dalla stampa che ho ricevuto e direi che dove io maggiormente ho seguito è comunque stato la sua storia in Italia che insomma è andato è la storia appunto quello che citavi citavi tu insomma fino all'ultimo come si diceva una volta ha avuto riconoscimenti di pubblico di critica si diceva sulla stampa di un tempo ha avuto degli ottimi riconoscimenti di pubblico di critica e che poi è l'ideale per un autore che poi gli permette di continuare a fare il suo lavoro insomma l'ideale è sempre di poter fare dei film che siano belli che piacciono e che però abbiano anche un vasto pubblico ecco ma il vasto pubblico mi hanno sempre insegnato non non si può predire non si può predire prima insomma può capitare abbiamo ancora parlato eppure sono come dire un elemento importante degli attori del film come testimoniano del resto i David assegnati a Favino e a Locascio ecco ti chiedo Favino è stata la tua prima scelta nel senso hai pensato subito a Favino si poteva fare questo film senza Favino questa somiglianza straordinaria di Favino con il modello di riferimento la ricerca degli attori è sempre un passaggio molto delicato in cui io mi rendo conto ma che non si devono sbagliare abbiamo fatto dei provini io ho sempre ammirato e apprezzato in un attore come Favino già popolarissimo riconosciuto aver voluto fare un provino con un così come ha fatto anche ad altri attori e quindi la scelta tra l'altro anche un po' è sempre un po' dibattuta è sempre un po' sofferta però poi per fortuna è stata la scelta migliore poi sono stati non dimenticherei Locascia anche Ferracane e anche altri attori per fortuna abbiamo capito che più noi sicilianizzavo si rendeva più siciliano il film meglio era e quindi sono state fatte delle scelte su una troupe siciliana di attori veramente eccellente senti lo ricordavi anche tu appunto oltre a Favino queste due prestazioni particolarmente riuscite significative di Locascio e di Ferracane Locascio forse favorito appunto dalla sua sicilianità ma è sorprendente Ferracane che non è un attore di origine siciliana ma che invece entra benissimo nella parte di Pippo Calò no ma lui è siciliano penso anche Ferracane penso sia siciliano però Ferracane è un attore meno famoso di Locascio però devo dire ha dato un'interpretazione eccellente che adesso vedo che è molto richiamato tra l'altro per cui ha vinto il Naso d'Argento perché non dimentichiamo che sia che Locascio che Favino che hanno vinto anche il Naso d'Argento per il traditore e come avete costruito questa somiglianza fra l'attore Favino e il personaggio Buscetta ma per la prima volta nella mia lunga carriera un personaggio proprio per il senso del tempo abbiamo dovuto modificarlo mentre Ferracane è sempre sì ha avuto delle modifiche però abbastanza di tipo classico invece invecchiamenti di tipo classico invece Favino abbiamo fatto uso di cosiddetti prostetici cioè aggiunte al volto soprattutto quando lui invecchia molto delicate si è dovuto fare una maschera che però era un'esperienza che io non conoscevo ma sentivo che Pierfrancesco desiderava questo e quindi poi anche questo è stato un risultato che ha arricchito ancora di più la sua interpretazione che poi si è ripetuto con il film successivo di Favino con il personaggio di Craxi oggi il cinema può fare veramente questi questi miracoli allora io ringrazio molto Marco Bellocchio e ringrazio naturalmente anche gli studenti del liceo classico e scientifico Gulli e Pennisi di Acereale in particolare la professoressa Barbara Condorelli mi auguro e sono convinto anzi che questo incontro abbia come dire sia stato molto utile per capire di più la storia italiana e soprattutto il cinema e il talento di Marco Bellocchio che torno a ringraziare speriamo di ritrovarci ancora in occasioni simili ringrazio voi perché per me è stato un arricchimento grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti